Sento dire in giro, questa dimensione è instabile, verremo risucchiati in un vuoto amorfo! Ah! Fugie! E se non la pensate così, vi ordino di strapparvi gli occhi e gettarli nell'inceneritore più vicino, sono chiaramente difettosi! Ma soprattutto, quei vandali Lothraks non sono fuggiti! Come avrebbero potuto se... Ah! Se ancora non li ho acciuffati, pezzi di idioti! Tutto! Volete la verità? La mia taglia sui Lombax ora monta 27 strabilioni di nefari dollari! Guardate! Così tali! Così reali! Così palesemente non inventati! E possono essere vostri quando catturerete quegli stupidi Lothraks!